Nascondiglio e agitando le braccia tutto eccitato Il felino inizia a caricare Però non stava puntando i mammut lannosi Ma Gelsomino scendiamo Gridò la professoressa Penelope I Gelsomino punterano gli sci a valle e si lanciarono lungo il versante di una collina Seminando la tigre dai denti a sciabola L'animale mi rimase molto sorpreso nel vederli schizzare via così velocemente Aveva già incontrato altri esseri umani Ma mai, ma mai, sugli sci Oh no, esclamò Alfie sconcertato Ora siamo in fondo alla collina e faremo un bel po' di fatica a risalire Almeno ci scalderemo muovendoci, affermò il professor Pablo E poi così siamo riusciti a osservare da vicino i mammut lannosi La notte era calata Nella grotta dove si erano sistemati Gelsomino La professoressa Penelope e il professor Pablo Fermi all'ingresso stavano osservando le stelle Ash e Alfie leggevano un libro riscaldati dal calore del fuoco Mentre Tulip stava disegnando un mammut lanoso Ted, che cosa stai facendo? Chiese Tulip Ted stava cercando di capire come trasformare palle di neve in acqua potabile Come un mammut lannoso Ma finiva solo col bagnarsi i guanti Ci vuole un po' di pratica per diventare un mammut lanoso Non si possono imparare queste cose dal giorno alla notte Gli appunti di ascia sui mammut lanosi I mammut lanosi erano grandi quasi quanto gli elefanti africani Avevano lembi di pelle sulle proboscite che usavano per riscaldare la punta E per trasformare la neve in acqua Usavano le zanne per spazzare via la neve e mangiare l'erba sottostante E per trasformare la neve in acqua potabile